Ciao a tutti da Campanaro 67, buona domenica a tutti, è la penultima domenica di febbraio e al Duomo di Senigallia, ormai chiuso per problemi dovuti all'ultima scossa di terremoto, hanno messo a posto le campane, vi ricordate che la sesta campana suonava molto bassa? Adesso dovrebbe andar bene e riprendiamo il suono delle 17.30. Grazie 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 Grazie.